A vario titolo dovranno rispondere dei reati di corruzione, soppressione e distruzione di atti pubblici, uso di valori di bollo contraffatti e truffa ai danni dello Stato. Custodia in carcere nei confronti di un dipendente del comune di Marigliano, agli arresti domiciliari, 11 avvocati e la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio per un anno nei confronti di altri tre togati. L'attività investigativa condotta dai carabinieri di Castello di Cisterna, sotto la direzione della procura di Nola, ha consentito di portare alla luce una prassi consolidata presso l'ufficio del giudice di pace di Marigliano. Il cancelliere preposto favoriva la cricca di avvocati suoi amici, i quali, grazie alla sua complicità, riuscivano ad ottenere l'assegnazione dei fascicoli di cui erano patrocinatori al giudice di pace loro più gradito. Molteplici sono gli episodi accertati di sottrazione, soppressione e distruzione di fascicoli processuali da parte degli avvocati all'interno della cancelleria, nonché di alterazione del criterio di assegnazione dei fascicoli ai vari giudici di pace di Marigliano. Inoltre, avvocati e cancelliere creavano fascicoli completamente falsi, avente quale parti processuali soggetti deceduti o addirittura di fantasia. Gli avvocati avrebbero regalato al cancelliere, in occasione di una cena organizzata presso la sua abitazione, un costoso oggetto in oro. Le attività di indagini hanno inoltre accertato il sistematico utilizzo da diversi anni di marche da bollo contraffatte per l'iscrizione al ruolo, traendo così in inganno i funzionari delle cancellerie addetti all'iscrizione che formavano atti pubblici falsi.